Ciao a tutti, oggi vi voglio proporre una ricetta di verdura, un contorno, i peperoni in agrodolce, sono molto semplici e veloci da fare. Allora vediamo cosa ci serve, ci serve uno spicchio o mezzo di aglio, 50 g di olio di oliva, 2 cucchiaini di sale, 30 g di zucchero, 35 g di ricetta balsamico e un po' di peperoni, io ho preso due peperoni gialli, due rossi, uno verde, all'incirca 7-800 g di peperoni. Per iniziare inseriamo lo spicchio d'aglio e 50 g di olio d'oliva, dopodiché andremo a soffriggere l'aglio, io preferisco non macinarlo nei peperoni in agrodolce, ma soffriggerlo con l'olio, 3 minuti, 120 g di radia, velocità 3, e poi toglierlo. Una volta che abbiamo soffritto l'aglio e l'abbiamo tolto dal boccale, andiamo ad aggiungere 2 cucchiaini di sale, 30 g di zucchero, 35 g di aceto balsamico, chiudiamo e diamo 20 minuti, varoma, anti-orario, velocità 1. Ricordatevi di non mettere il misurino sopra il bimbi, ma il cestello, in modo che evapori l'acqua e che non faccia schizzi in giro. I peperoni sono pronti, non mi resta che augurarvi buon appetito!